Ciao a tutti e benvenuti, io sono Valentina Vigato, professional organizer e sono qui per aiutarvi a semplificare la vostra quotidianità grazie all'organizzazione della casa e all'inserimento di buone abitudini. Oggi infatti parliamo di come pulire casa dopo un'influenza. Partiamo proprio dal concetto di pulito, pulire, detergere, sanificare, igienizzare, ci sono tantissime terminologie a riguardo, spesso vengono confuse ed è anche facile confonderle, soprattutto perché alcune di queste non sono specifiche. Pulire non vuol dire niente, pulire vuol dire rimuovere lo sporco, pulire non ha un significato specifico, non è una terminologia tecnica, quindi pulire una casa dopo un'influenza trova il tempo che trova. Quando uscite da una malattia è importante fare delle pulizie un pochino particolari, soprattutto perché non è come uscire da una settimana in cui non avete fatto le pulizie, non avevate voglia, avete trascurato la casa. Non è esattamente la stessa cosa e sono girati i batteri, sono girati i virus magari, sono girate cose che è bene eliminare definitivamente. Quando parliamo di pulire in particolare dopo un'influenza in realtà è meglio dire igienizzare, sanificare. È importante soprattutto per alcune zone della casa, io cerco di sanificare regolarmente i bagni, almeno il lavandino della cucina, almeno i piatti, l'intimo, i vestiti intimi. Ci sono delle cose in casa che è importante sanificare e igienizzare. Non vogliamo vivere in un ospedale, nessuno vuole vivere in un ambiente sterile, anzi è pericolosissimo, ce l'ha dimostrato questi ultimi anni, infatti noi ci stiamo ammalando molto ultimamente, proprio secondo me. Ma tutti noi in realtà quando andiamo fuori per strada, ci incontriamo con le persone, facciamo la spesa, viviamo, lavoriamo, bambini che vanno a scuola e portano a casa l'inverosimile, ecco, è importante che la nostra casa si venga pulita, venga detersa, venga igienizzata negli spazi, nei luoghi dove è importante igienizzarla, ma che non sia completamente un ambiente sterile perché sarebbe controproducente. Fatta questa grande premessa, ok, andiamo nello specifico di che cosa bisogna fare quando stiamo parlando, quando usciamo da una malattia. Vi darò delle piccole semplicissime cose, soprattutto perché quando si esce da una malattia ancora non siamo ancora al 100% delle forze, per cui quello che, l'ultima cosa che volete fare è andare a stancarvi ulteriormente. Prima cosa naturalmente, come tutte le pulizie, ogni volta, questa è la cosa numero uno, aprite le finestre, fate entrare l'aria fresca, anche se fa ancora freddo, aprite le finestre e cambiate l'aria. Questo è importante farlo anche se siete malati, anche nel periodo in cui siete malati, ma aprite le finestre, proprio perché questo vi permette di cambiare l'aria e di buttare fuori tutti i batteri che sono all'interno, l'aria poi disperde. Cambiate l'aria, anche semplicemente il far entrare il sole, la luce del sole disinfetta tantissimo. Non so per quale principio, ma è importantissimo far entrare aria e luce del sole. Se stai guardando questo video, forse è perché hai difficoltà a mettere in ordine la tua casa, perché non sai da dove iniziare con tutto il caos che ti circonda. Se stai guardando questo video, magari è perché nessuno della tua famiglia ti dà una mano e non sai come coinvolgerli nel riordinare la casa. Probabilmente stai guardando questo video anche perché sai in fondo al tuo cuore che una casa ordinata, una casa che dove ogni cosa ha il suo posto, è una casa dove puoi rientrare e sentirti accolta, sentirti nel tuo personale tempio di benessere. Quindi se vuoi anche tu iniziare a riordinare a casa insieme a me, clicca nel link qui sotto. Ho creato una guida gratuita apposta per te, dove ti svelo tutti i miei segreti per come tenere una casa in ordine facilmente. È composta da dei semplicissimi passi da affrontare giorno dopo giorno, ma soprattutto con tutti i miei segreti trovi anche le riflessioni che ti aiuteranno a mantenere in ordine quotidianamente la tua casa. Cosa aspetti? È gratuito, clicca nel link qui sotto. Secondo consiglio è dedicatevi particolarmente alla camera da letto, evidentemente perché è la zona dove avete trascorso più tempo e se non è la zona dove avete trascorso più tempo, consiglio spassionato. Quando siete ammalati cercate di sporcare il meno possibile, di toccare il meno possibile, di andare in giro il meno possibile perché poi dovrete igienizzare tutto a casa altrimenti. Quindi consiglio spassionato, rinchiudetevi in una stanza, un bagno e sporcate quello, va bene? Basta. Dopodiché igienizzate principalmente quello, poi passeremo al resto ma iniziamo dalla camera da letto. Tirate via le lenzuola, cambiate le lenzuola dopo febbri o raffreddori, tosse, altro. Togliete le lenzuola, mi raccomando, e lavatele. Lavatele completamente, lavatele ad alta temperatura. Quando rimuovete le lenzuola io in un colpo unico rimuovo anche asciugamani e tutti questi altri tessili che vanno poi in lavatrice in un un unico giro e vanno lavati ad alta temperatura. Alta temperatura intendo minimo 60 gradi. Se l'avete aggiungete anche del percarbonato di sodio che è un igienizzante e permette proprio alla vostra biancheria di lavarsi meglio, di igienizzarsi meglio. Se notate le mie lenzuola e i miei asciugamani sono bianchi. Questo perché? Perché altri colori, tessuti, altro genere di stampe magari, non possono andare a 60 gradi. È importantissimo quando si è ammalati, quando si è in certe condizioni, poter sanificare i propri asciugamani, le proprie lenzuola. Proprio per una questione di igiene. Io ho scelto di avere poche lenzuola, penso siano 3 paia e pochi asciugamani, anche questi penso siano 3-4 paia che si alternano, ma tutti esclusivamente bianchi. Uno perché si possono interscambiare fra loro, due perché possono essere lavati ad alta temperatura proprio in caso di malattia e purtroppo capita e non c'è niente di male. È importante proprio in queste occasioni lavarli 60 gradi con il ipercarbonato di sodio. Andate poi a sanificare tutte le superfici ad alto contatto. Prendete un sanificante e con un panno andate a sanificare tutte le superfici che avete toccato durante questi giorni. È importantissimo le superfici piane, le superfici verticali, magari le porte, gli interruttori, il telecomando, il termometro, tutte quante le cose con cui avete avuto a contatto. E più ci pensate più in realtà sono tante perché magari avete lavorato dal computer, dal letto al computer o avete giocato col computer, il tablet. Qualsiasi cosa avete toccato è importantissimo sanificarla. Mi raccomando quando dovete andare a sanificare un prodotto elettronico dovete spruzzare sul panno, non sul prodotto, non sul tablet, non sul telefono, non sulla televisione. Spruzzate il prodotto adatto, ok, sul panno e poi col panno andate a passare telefono e quant'altro. Il telefono dovete sanificare, mi raccomando, il telefono è importantissimo, l'avrete utilizzato sicuramente tantissimo e è una delle prime cose che dovrete andare a sanificare. Passate poi al bagno. Dal bagno abbiamo già rimosso quindi gli asciugamani, andiamo proprio a igienizzare tutto il bagno, tutte le superfici di contatto, i sanitari, ovunque. Una volta sanificato il bagno è anche importante cambiare lo spazzolino. Lo so è una delle ultime cose a cui si pensa ma è importantissimo ovviamente perché è stato a contatto con le nostre mucose, portatrici di germi, batteri, è meglio che venga cambiato lo spazzolino. La zona giorno se l'avete utilizzata poco, è stata sicuramente abbastanza trascurata, almeno la mia cucina non ci si è alimentati per giorni, bene. Basta semplicemente fare un veloce riordino. Facendo un veloce riordino cogliete l'occasione anche qui per passare le superfici ad alto contatto. In particolare le maniglie delle porte, quelle cele si dimentica spesso e invece sono la prima cosa che vengono, che viene utilizzata quotidianamente. Le maniglie dei cassetti, degli armadi e quant'altro. Anche la porta d'ingresso è importante andare a sanificare. Concludiamo con il lavare i vestiti che è importantissimo perché quando siamo malati viviamo praticamente sempre con quei vestiti ci portiamo addosso tutti i nostri batteri e poi è importante igienizzare quei vestiti. Questi lavateli alla temperatura più alta che potete, sicuramente non sono in cotone bianco quindi non potranno andare a 60 gradi ma lavateli alla temperatura più alta che potete e magari aggiungendo appunto del percarbonato di sodio. Concludo poi con una cosa che igienizza completamente la stanza, vado a farlo stanza per stanza e ogni volta che lo accendo poi chiudo la porta, è questo oggetto che si chiama ionizzatore, lo metto una stanza dopo l'altra, lo faccio partire, lui fa il suo circolo circa di mezz'ora e va ad ozonizzare tutta la stanza. Non sarà sicuramente di quelli che si trovano nei locali pubblici ad altissima efficienza ma sicuramente quando entrate dopo aver fatto passare l'ozonizzatore sentite sicuramente una gran ventata di pulito e igiene. Non che profumi ma proprio che sentite che si respira pulito. L'ultima cosa che a me piace fare, questo è un plus, mi piace passare la salvia. Ho della salvia secca che vado quindi a fumigare in giro per casa, non che sia magari igienizzante ma sicuramente fa proprio questo effetto di purificazione generale della casa e con questo sento proprio di aver completamente pulito, igienizzato e purificato la mia casa. Questi sono i miei consigli per come pulire casa dopo un'influenza. Fatemi sapere se avete altre tecniche, idee, se mi sono dimenticata qualcosa scrivetelo nei commenti. Se vi è piaciuto questo video non dimenticate di lasciare un pollice in su, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, esce un nuovo video ogni lunedì, parliamo di casa, semplificazione e ordine. Io vi ringrazio ancora per aver visto questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!